8 milioni e 340 mila euro per la base di gara dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi per la riqualificazione del capannone ex SACA, in cui saranno ospitati i laboratori dedicati alla cultura agricola e alimentare dei paesi del Mediterraneo. Il comune di Brindisi, a distanza di più di un anno dall'approvazione ingiunta del progetto definitivo per il vecchio immobile della società anonima cantiere d'aeronautica Brindisi, che ricadono nell'area del Parco del Cillarese, ha dato il via all'iter, scegliendo la strada della procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le motivazioni sono legate al fatto che il personale tecnico del comune è già impegnato in progetti di prossima scadenza. Quanto alla gara unica, c'è l'esigenza di pervenire più celermente all'obbligazione giuridicamente vincolante, di ottimizzare la sequenza tra attività progettuali ed esecutive e di ottenere unicità di responsabilità, spiegano dal settore lavori e opere pubbliche di Palazzo di Città. Per la copertura della somma necessaria all'intervento, l'amministrazione può contare sul finanziamento pari a 9 milioni e mezzo di euro, concesso con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016, nell'ambito del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e dei capoluoghi di provincia, al quale è possibile aggiungere a titolo di cofinanziamento 600 mila euro da un mutuo già contratto. Il comune intende realizzare aree per uffici, una zona polifunzionale per convegni da 90 posti, una caffetteria dispensa con possibilità di preparazione attrezzata per la degustazione della cucina salentina e poi botteghe e spazi espositivi. Il laboratorio ospiterà workshop per la promozione di scambi culturali tra regioni e paesi trasfrontalieri e per la conoscenza della dieta alimentare mediterranea, nonché attività di start-up e imprenditorialità giovanile sulla valorizzazione dei prodotti e delle filiere agroalimentari salentine e interventi di sensibilizzazione rispetto al contenimento degli sprechi alimentari tramite associazioni di volontariato, previsti inoltre percorsi formativi di educazione alimentare per insegnanti e alunni tramite accordi con i provveditorati agli studi e l'Università del Salento.